Summer Life, Summer Life, Summer Life Buonasera, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale della comunità pastorale San Paolo VI In apertura di giornale oggi abbiamo una nuova intervista a Don Luigi Ora passiamo la linea al nostro inviato Chiara Grazie Davide per la linea e ora eccoci qui con Don Luigi Cominciamo con le domande Un secondo, lei si avvicini per cuore Va bene Nome e cognome Don Luigi Marcucci Dove e quando sei nato? Sono nato nel 1982 in Puglia Hai fratelli o sorelle? Una sorella più piccola, di nome Irene Che studi hai fatto? Ho fatto il liceo classico, poi scienze ed educazione Poi consulenza pedagogica Scienze religiose e adesso il baccalaureato in teologia Grazie Don per la linea e adesso passiamo di nuovo a Davide che ci direi come continueremo Grazie Chiara Ora abbiamo un altro inviato che ci parlerà di altre domande sempre a Don Luigi Siamo in diretta in 3, 2, 1 Buonasera a tutti, sono Giorgia, grazie Davide per la considerazione e per la linea e adesso passiamo alle domande un po' più profonde Don, a che età sei entrato in seminario? A 32 anni, per la seconda volta Per la seconda volta? E che cosa ti ha spinto ad entrare in seminario? Beh, il fatto che a un certo punto ho capito che il signore mi stava chiedendo di mettere tutta la mia vita al suo servizio, al servizio della chiesa E da piccolo frequentavi l'oratorio? Sì, io sono cresciuto a pane e oratorio Giusto, giusto No, non preoccuparti, perché tanto il reggitore di microfono, quando parlo io non mi tiene il microfono vicino È discriminazione, ce l'ha con i prefigli E in quanti oratori sei stato? Sono stato in... La sua va da in testa Da quando sono in seminario o prima, prima, prima? Da quando sei in seminario? Da quando sono in seminario? 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, questo è il sesto Ah, hai girato molto? Sì Bene, grazie mille per la linea, adesso di nuovo a te, Davide Ciao Eh, siamo in onda Ah, ora per le domande ignoranti passiamo a Mirko Frontini Siamo in diretta in 3, 2, 1 Grazie Davide per la linea, siamo qua con le domande un pochino più sciocche Ehm, squadra di calcio preferita? Juve Grande Ehm, squadra di calcio è la mano Ale Ti impesca o ti limone? Non ho capito Ti impesca o ti limone? Ti al limone? Ciò di calcio di pancia che ti al limone? Ti impesca sempre ti al limone! grazie per l'attenzione ci vediamo alla prossima edizione del telegiornale della comunità pastorale e adesso sanifichiamo mascherina dai mascherina anche tu mascherina salutiamo la telecamera arrivederci ciao